La maggioranza si spacca, inneggia qualcuno, D'Alfonso si ritrova in minoranza rispetto alla sua maggioranza. Oggi Forza Italia, che già aveva dimostrato la sua opposizione ai tagli sulla sanità, racconta una giornata che ha visto sovvertire i ruoli e le preferenze. C'erano anche cittadini a dire no, sono passati dieci mesi dal suo arrivo e sembrano palesarsi i primi segni di stabilità. Ma io credo che D'Alfonso si sia intestato una sconfitta per arroganza e puntiglio. Lì non è che c'erano consiglieri di maggioranza e di opposizione, ma c'erano consiglieri eletti da dei territori. Cioè è oggettivamente fuori dalla logica che i punti nascita debbano essere chiusi perché non possono essere messi in sicurezza. E spendere poi più soldi per rendere accoglienti a tutti i punti nascita che restano aperti. E' chiaro che era un puntiglio irragionevole. Noi chiedevamo semplicemente, ferma di un attimo, ragiona, ci sono situazioni e situazioni. Partiamo ovviamente dalla sicurezza della mamma e del bambino, ma se spendi di meno mettendo in sicurezza ciò che vuoi chiudere, perché devi chiuderlo per forza? Allora è evidente che alcuni consiglieri della maggioranza abbiano votato insieme con noi. E' la democrazia. Probabilmente le proposte dell'opposizione erano più sensate di quelle della maggioranza. Capita. Capita anche che ci siano uomini liberi e capita che i uomini liberi vogliono difendere i propri territori. Dall'inizio di questo governo regionale mi pare che la luna di miele con gli abruzzesi inizi un pochettino a svanire. Perché ieri c'erano tante proteste per la PowerCrop, tantissime proteste per Umbrina, tantissime proteste e tantissimi amministratori contro la chiusura dei punti nascita. Siamo a sei mesi di governo, insomma il dato mi pare in contotendenza.